In questa lezione ci occuperemo di un'altra categoria di proposizioni subordinate, quelle che la volta scorsa abbiamo definito circostanziali, cioè quelle proposizioni che all'interno del periodo svolgono la funzione di un complemento obliquo, dunque non del soggetto, non del complemento oggetto. Come nella proposizione noi troviamo complementi di fine, complementi di causa e altri tipi di complementi di cui abbiamo avuto modo di parlare quando abbiamo fatto la sintassi della proposizione, così all'interno del periodo quel tipo di rapporto che viene espresso dai complementi di quei vari tipi che abbiamo detto adesso, all'interno del periodo viene espresso da queste proposizioni. Anche queste proposizioni vengono introdotte spesso dalle stesse proposizioni che utilizziamo, utilizzano i latini meglio, per dire ciò che le proposizioni completive vogliono dire e questo rende un po' più complesso il problema della traduzione. È innegabile che di fronte a una proposizione latina introdotta da ut con il congiuntivo, capire quell'ut con il congiuntivo, se sia completivo, se sia invece di tipo finale, se sia invece di tipo causale, magari di tipo temporale e così via, non è facilissimo. Per questo il vero problema nella traduzione dal latino all'italiano non è di ricostruire in che maniera si dica correttamente il latino, ma quale è l'arco possibile delle scelte all'interno delle quali dobbiamo individuare quella che corrisponde al significato, al valore che all'interno della frase bisogna dare, all'interno del periodo bisogna dare a quella proposizione. Cominciamo col vedere una definizione delle proposizioni subordinate circostanziali, che è parallela a quella definizione delle subordinate completive che abbiamo visto nella lezione scorsa. Le proposizioni subordinate circostanziali sono le proposizioni dipendenti che svolgono nel periodo una funzione paragonabile a quella di un complemento indiretto, ovviamente all'interno della proposizione. Questa è la definizione che possiamo dare del tipo di proposizioni su cui ci soffermeremo nella lezione di oggi. Si tratta di proposizioni molto frequenti, non soltanto in latino, ma un po' in tutta la comunicazione di tipo europeo soprattutto, certamente in tutte le lingue neolatine e non soltanto nelle lingue neolatine. Dunque, di fronte a proposizioni così frequenti nell'uso bisognerà prestare un'attenzione particolare. Cominciamo a vedere la prima categoria, quella delle proposizioni finali. Nella schermata abbiamo una serie di esempi che sono tutti quanti riconducibili al modo più tradizionale che hanno i latini di rendere le proposizioni finali, cioè ut e il congiuntivo. Questo ut e il congiuntivo viene costruito secondo le norme della consecuzione temporale. Ma dal momento che una proposizione finale deve necessariamente essere contemporanea alla proposizione reggente, perché il fine deve essere presente nel momento in cui si fa qualcosa, non può essere un fine passato, perché le cose passate non ci sono più, e non può essere un fine non connesso al momento dell'azione, noi non avremo tutti i possibili tempi del futuro, ma soltanto il congiuntivo presente in rapporto a una dipendenza dei tempi principali, il congiuntivo imperfetto in rapporto a una dipendenza dei tempi storici. Vediamo il primo esempio. Vigilas tu de nocte, ut tuis consultoribus, rispondeat. Tu sei sveglio, vegli durante la notte, per poter rispondere, per rispondere a quelli che vengono a chiederti dei pareri, a coloro che si consultano con te. Vigilas, indicativo presente, ut respondeas, congiuntivo presente. La contemporaneità tra il fatto di stare svegli e il fatto di rispondere è ovvia, perché è difficile rispondere mentre si sta dormendo. Dunque, questa contemporaneità relativa a una proposizione reggente di tempo principale ci dà il respondeas al congiuntivo presente. Nel secondo esempio, invece, abbiamo un caso di dipendenza dei tempi storici. Reguli, in unum convenerunt, ut interse, decunctis negozis discepterent. I capi, i piccoli re, qui si tratta naturalmente di popolazioni non europee, sono le popolazioni dell'Africa, si riunirono in un unico luogo per poter discutere fra di loro, interse, su tutti quanti i problemi, decunctis negozis, complemento di argomento. Convenerunt è un perfetto, dunque un tempo storico. La finalità di questo convenerunt è ut discepterent, congiuntivo imperfetto, perché contemporaneo al tempo storico convenerunt. In questi due casi noi abbiamo incontrato una proposizione finale di tipo positivo, cioè si fa una cosa allo scopo di avere un certo risultato, ma in qualche caso la finalità per cui viene fatta una cosa è di non avere un certo risultato, per impedire, per così dire. Allora, se io faccio una cosa perché non succeda questo, la finalità negativa in latino la rende con la congiunzione ne. La negazione di ut è, nel caso della proposizione finale, ne. Vediamo il terzo esempio. In questo caso manca la proposizione principale, per brevità è stata tagliata la frase, per cui noi abbiamo quell'infinito e la congiunzione neque che collega a qualcosa che è stato detto prima e che in questo momento ci sfugge, infatti Enim non era necessario allargare gli accampamenti, non era necessario che gli accampamenti fossero ampliati perché il nemico non potesse capire né sentiret l'arrivo dell'altro console, non potesse intendere che stava arrivando l'altro console. Quindi i romani avevano un accampamento in cui erano collocate le loro truppe, stava per arrivare l'altro console, i romani decidono di non allargare l'accampamento perché se viene allargato l'accampamento i nemici capiscono che arrivano altri soldati. Se l'accampamento rimane sempre uguale, il nemico non sa che stanno arrivando le truppe dell'altro console in soccorso di quelle che si trovano al momento nell'accampamento. In questo caso il né serve a introdurre la finale negativa che è anch'essa di tempo storico sentiret. Non possiamo ricostruire qui completamente la consecuzio perché ci manca il verbo da cui dipende l'infinito S e quindi non sappiamo all'inizio di che tipo era. Ovviamente sarà di tempo storico perché la presenza di sentiret in perfetto ci garantisce che all'origine di questi costrutti c'era un tempo storico. Infine l'ultima frase di questa schermata ci dice legatos misere ad consulem romanum ut receptis equitibus qui causa belli essent absisteret obsidione. il soggetto sono i nemici naturalmente mandarono degli ambasciatori al console romano perché rinunziasse all'assedio absisteret obsidione una volta ricevuti i cavalieri i quali erano stati, erano la causa della guerra. Misere è il perfetto dimitto, absisteret è il congiuntivo imperfetto, contemporaneità nel passato. In questa frase però troviamo un altro particolare costrutto su cui ritorniamo anche se è stato oggetto di una lezione passata, quel receptis equitibus. Receptis equitibus ve lo sottolineo perché è uno dei costrutti più frequenti in latino, il cosiddetto ablativo assoluto. Recipio, participio, receptus, eques equitibus, receptis equitibus, essendo stati riacquistati, ripresi i cavalieri. Con questo noi abbiamo elencato quattro esempi in cui la costruzione della proposizione finale è effettuata attraverso il sistema di ut e il congiuntivo o di ne e il congiuntivo nel caso della frase negativa. però dobbiamo dire che in alcune espressioni noi non abbiamo ut o ne e il congiuntivo. Ci sono anche altri modi con cui è possibile rendere la finale per i latini. Uno dei modi implicito è con ad e il gerundio. Un altro dei modi è con una proposizione relativa anch'essa costruita al congiuntivo. Un altro dei modi è con un supino in tum collegato con un verbo soprattutto di movimento. Qualche volta anche un participio futuro attivo può servire a rendere questo tipo di proposizione. Dunque l'esempio che noi abbiamo qui trattato è indubbiamente quello di maggiore presenza nell'ambito delle opere scritte in lingua latina ma certamente non bisogna sottovalutare la possibilità che altri tipi di costrutti latini rendano il medesimo concetto cioè questo concetto di proposizione finale che può corrispondere a varie forme di costruzione sia con verbi di tipo finito sia con verbi di tipo infinito. La seconda costruzione delle circostanziali su cui ci soffermeremo è data dalle proposizioni consecutive. Se la proposizione finale indica lo scopo per cui un'azione viene messa in opera e quindi in qualche modo l'intenzione e la volontà di chi quell'azione compie la proposizione consecutiva indica di quella stessa azione la conseguenza. Come vedete la sfumatura è sottile ma non va sottovalutata perché la conseguenza è indubbiamente qualcosa che viene a valle dell'azione della principale così come il fine ma la conseguenza può non essere nella volontà di chi compie l'azione addirittura in qualche caso può essere contro quella volontà. È un dato di fatto che discende da un altro dato di fatto in maniera pressoché autonoma, automatica. Anche la proposizione consecutiva come la proposizione finale si costruisce con ut e il congiuntivo ma con delle differenze che ci fanno capire come per i latini ci fosse netta la convinzione di una differenza fra queste due proposizioni. Per esempio la negazione non compare sotto la forma di ne ma compare sotto la forma di ut non e ancora la consecuzio temporum è un po' particolare perché a differenza delle proposizioni finali che come vi dicevo sono sempre al presente o all'imperfetto in stretta e rigorosa connessione con le norme della consecuzio nel caso delle proposizioni consecutive invece è possibile l'uso del perfetto del congiuntivo e il rapporto tra la proposizione reggente e la proposizione dipendente è un po' meno vincolante dal momento che viene tenuta presente soprattutto la persistenza o meno di quella conseguenza. Ma vediamo qualche esempio concreto nella schermata che è alle mie spalle. io ho vissuto mi sono occupato delle cause di tribunale le cause pubbliche anche la vita politica naturalmente per molti anni a roma non c'era una grande distinzione tra vita politica e cause per molti anni in modo tale che i da ut in modo tale che ho difeso molti ma non ho danneggiato nessuno che cosa notiamo qui di interessante ita sum versatus sum versatus è un perfetto non sottilizziamo sul fatto che sia un perfetto logico o un perfetto storico cioè un nostro passato remoto o un nostro passato prossimo certamente è un perfetto questo perfetto regge però una proposizione consecutiva in cui l'uso del perfetto del congiuntivo defenderim l'eserim è in ogni caso anomalo rispetto a una normale consecuzio temporum questo discende dal fatto che in questi casi il perfetto del congiuntivo ha quella che viene comunemente chiamata una funzione aoristica qui bisognerebbe conoscere il greco e sapere che cos'è l'auristo in greco diciamo è un tipo di azione in cui non si sta tanto a pensare anteriorità contemporaneità passato presente futuro quanto piuttosto un aspetto dell'azione ovvero se l'azione è un'azione che ha una durata particolarmente lunga o viene vista al di fuori del tempo questo tipo di perfetto indica un'azione che è considerata indipendente dal tempo che può aver richiesto quindi che non mi che io abbia avuto sempre l'occasione di difendere molti ma non abbia mai danneggiato nessuno c'è stato un momento in cui io abbia danneggiato nessuno vi voglio far notare nella stessa frase anche quell'iniziale multosannos con l'accusativo di tempo continuato torniamo su un punto che abbiamo già trattato ma che è meritevole di essere ribadito secondo esempio tantus subito timor omnem exercitum occupavit ut non mediocriter omnium mentes animosque perturbaret immediatamente una così grande paura riempì tutto quanto l'esercito che occupò che turbò che mise in subbuglio in maniera non mediocre cioè in maniera notevole le menti di tutti e gli animi di tutti in questo caso noi abbiamo una maggiore coerenza con il sistema della consecuzio perché al perfetto occupavit corrisponde un imperfetto del congiuntivo perturbaret e quel ut non mediocriter da un lato ci presenta il caso del lut non di cui dicevamo prima dall'altro però ha anche un'ulteriore giustificazione nel fatto che quel non non nega tanto la frase nel suo insieme quanto il mediocriter non mediocriter è come se dicesse magnopere notevolmente assai anche qui come nella frase precedente vorrei sottolineare come la proposizione consecutiva sia introdotta da un termine all'interno della proposizione reggente nella frase precedente la proposizione prima di quella con ut conteneva ita ita sum versatus ut in questa seconda proposizione tantus occupavit ut cioè in pratica la proposizione consecutiva viene anticipata all'occhio all'orecchio del lettore del destinatario della frase attraverso un segnale che indica così tanto in una maniera così forte eccetera all'indà che nella seconda parte cioè quella più specificamente della proposizione consecutiva terzo e ultimo esempio quis nostum tam animo agrestiac duro fuit ut rosci morte nuper non commoveretur chi di noi fu di animo così rozzo e duro da non essere commosso poco fa dalla morte di roscio anche in questo caso la introduzione di quel ut non commoveretur è dato dal tam che trovate nella prima parte della frase tam ut qui la presenza del non è più evidente che nella frase precedente ut non commoveretur è il segnale che ci troviamo di fronte certamente a una proposizione consecutiva perché se fosse stata una finale noi non avremmo potuto avere ut non avremmo certamente avuto un ne con questo possiamo considerare chiusa anche la parte sulle proposizioni consecutive per le quali dobbiamo ricordare che non sempre dobbiamo attenderci un rigoroso rispetto della consecuzio tempolo finali e consecutive hanno in comune quella tipologia che abbiamo visto che prevede in ogni caso la presenza del congiuntivo altri tipi di proposizione circostanziale invece possono essere sia con l'indicativo sia con il congiuntivo e la differenza tra l'uso dell'indicativo e l'uso del congiuntivo è in qualche caso collegata alla congiunzione che introduce la proposizione stessa perché alcune congiunzioni richiedono obbligatoriamente il congiuntivo in altri casi invece corrispondono al segnale che l'autore vuole dare al lettore a proposito della maggiore o minore obiettività della espressione se l'espressione è assolutamente reale non è legata a un punto di vista specifico che sia del personaggio parlante che sia dell'autore stesso questo è un caso molto marginale si userà l'indicativo se invece si vuole dare un segnale che voglia far capire al lettore che non ci si trova di fronte a un dato assolutamente incontrovertibile e che non può essere chiamato in discussione ma di fronte a una possibilità a un'opinione ecco che subentra il congiuntivo questo è il caso delle proposizioni causali le proposizioni causali indicano il motivo per cui avviene ciò che è indicato dalla proposizione reggente vediamone alcuni esempi nella schermata il primo esempio dice io mi arrabbio con te io mi offendo con te perché per il motivo che avendo tu bisogno di qualche cosa nel momento in cui avrei bisogno di qualche cosa non hai voluto che io già da tempo io subito ne venissi a conoscenza mi sono offeso perché tu avrei bisogno di una cosa e non me l'hai detto quindi non mi hai trattato con l'affetto che ci deve essere tra amici per cui quando uno ha bisogno di una cosa non si deve vergognare a chiederla all'amico non olim shire me voluisti il motivo del irascor è il quad non voluisti indicativo voluisti perché il fatto che tu non hai voluto che io lo sapessi non è un fatto considerato come incerto dubbio esposto a una valutazione legata a un punto di vista ma è considerato come un fatto di certo un fatto avvenuto un fatto su cui nessuno può mettere in dubbio che la cosa sia andata così in questo caso noi abbiamo due livelli di consecuzio una prima che non risponde al normale caso di consecuzio con il congiuntivo ma è un problema di rapporti fratempi di due proposizioni all'indicativo io mi arrabbio perché tu non hai voluto tu prima non l'hai voluto e io ora mi arrabbio quindi c'è un presente in irascor e un perfetto in voluisti il perfetto voluisti è anteriore all'azione di irascor ma più interessante è l'altra proposizione dipendente di secondo grado cum aliquid desiderasses che dipende da voluisti in questo caso il desiderasses è ancora anteriore a voluisti perché tu prima hai avuto bisogno di qualcosa e poi hai deciso di non chiedermelo e poi io mi sono arrabbiato quindi ci sono in pratica tre momenti il più antico è indicato col più che perfetto poi viene il perfetto voluisti e poi irascor io ora che so che è successo tutto questo e mi arrabbio vediamo un altro caso invece in cui sempre in dipendenza della stessa congiunzione quad invece di trovare l'indicativo come nell'esempio di Seneca che abbiamo visto prima troviamo un congiuntivo ennius sanctos appellat poetas quad quasi deorum mali quodono at que munere commendati videantur ennio chiama santi i poeti perché sembrano in qualche modo segnalati raccomandati da un dono e da un beneficio degli dei in questo caso appellat è presente è vero che ennio è vissuto tanti e tanti anni prima di cicerone ma la sua opera rimane la sua opera la possiamo leggere ancora quindi nel momento in cui cicerone scrive ennio è presente con i suoi scritti e li chiama appellat ancora oggi il motivo per cui li chiama ancora oggi è che oggi essi risultano quindi contemporaneità quindi congiuntivo presente il motivo del congiuntivo è che questa opinione che i poeti siano raccomandati dagli dei segnalati dagli dei è un'opinione di ennio è quindi il classico caso in cui cicerone non esprime come dato oggettivo come cosa sicura questa benevolenza particolare degli dei verso i poeti ma la esprime come opinione di ennio e l'uso del congiuntivo serve a togliere la oggettività alla frase ultimo esempio sempre in questa schermata ci consente di mostrare un'altra costruzione che fa capo alla proposizione causale anch'essa ma con un diverso modo di introdurre la frase con una congiunzione che non può avere se non il modo congiuntivo cum sinti nobis consiglium razio prudenzia necessest est deum ecipsa avere mai ora dal momento che noi abbiamo la saggezza la logica il buonsenso la lucidità la prudenza è necessario che dio abbia queste stesse qualità in grado maggiore rispetto alle nostre se gli uomini che sono limitati e difettosi hanno delle qualità anche dio deve averle e deve averle ben più grandi degli uomini stessi ed è una frase di cicerone qui noi abbiamo la causale introdotta da cum cum è una congiunzione che introduce sempre proposizioni causali al congiuntivo quindi il sint non dipende da una possibilità di dubbio intorno al fatto che gli uomini abbiano consiglium razio prudenzia consiglium razio prudenzia ci sono e in questo l'autore non vuole pronunciarsi sulla maggiore o minore oggettività della loro presenza quel congiuntivo è semplicemente la necessaria conseguenza dell'uso di cum con valore causale un uso di cum con valore causale che è diverso dall'uso di cum che abbiamo visto nella prima delle tre frasi cum aliquid desiderasses avendo tu bisogno di qualche cosa lì noi abbiamo un altro tipo ancora di proposizione che si suole individuare come cum narrativo che ha una funzione tra il temporale e altri modi di individuare proposizioni circostanziali comunque certamente non di tipo causale come nella terza delle proposizioni causali che avete trovato in questa schermata se le proposizioni circostanziali al congiuntivo indicano fine conseguenza causa c'è ancora c'è ancora un altro tipo di rapporto che viene individuato da questo stesso sistema di connessione alla reggente di un congiuntivo dipendente circostanziale ed è quello delle proposizioni cosiddette concessive io posso fare una cosa al fine di ottenere un risultato io posso fare una cosa in modo tale da ottenere un risultato che è diverso dal fine io posso fare una cosa perché c'è qualcuno o qualcosa che mi ha spinto a fare così io posso fare una cosa nonostante ci siano dei motivi per non farla sebbene benché nonostante introducono un tipo di proposizione che si suole chiamare concessiva io ti concedo che c'era questo contro eppure è successa quest'altra cosa vediamo qualche esempio di proposizione concessiva nella schermata che è alle mie spalle satis ipsum nomen filosofie et siam si modeste tractetur invidiosum est il nome stesso di filosofia è abbastanza sgradevole satis invidiosum est è abbastanza tale da creare reazioni negative anche se viene trattato con un atteggiamento umile con un atteggiamento modesto se uno in mezzo alla strada dice io sono un filosofo fa un po' ridere questo è il senso della frase di Seneca se uno si propone come filosofo la gente dice ma questo gli si crede di essere questo è il tipo di reazione anche se in questa affermazione di essere un filosofo c'è comunque un tentativo di non far valere come particolarmente rilevante questo ruolo filosofico della persona anche se Eziam si introduce una proposizione concessiva e in questo caso la concessiva è con l'indicativo scusate è con il congiuntivo presente tractetur che è dipendente da est della proposizione reggente in quanto contemporaneo a questa stessa proposizione che è in un tempo principale abbiamo un congiuntivo ma nelle proposizioni concessive possiamo anche avere l'indicativo in questo caso come nelle proposizioni causali conta il tipo di congiunzione perché alcune richiedono necessariamente l'uno o l'altro dei modi e conta l'atteggiamento dell'autore il quale vuole rendere più o meno ipotetica la cosa che viene concessa la cosa nonostante la quale avviene l'azione indicata dalla reggente il fatto di trattare più o meno umilmente più o meno dimessamente di filosofia è una cosa che può avvenire e può non avvenire quindi quando anche anche qualora ci troviamo di fronte a un tipico caso in cui l'indicativo sarebbe troppo forte noi dobbiamo esprimere la possibilità che questo avvenga e non la certezza il secondo esempio nostri tametsi abduce et a fortuna deserebantur tamen omnem spem salutis in virtute ponebant i nostri anche se venivano abbandonati dal loro comandante e dalla sorte tuttavia ponevano nel loro valore ogni speranza di salvezza tametsi deserebantur tamen ponebant in questo caso noi abbiamo una perfetta identità di tempo all'indicativo tra la proposizione reggente ponebant e la proposizione dipendente deserebantur e ci troviamo di fronte a un necessario uso dell'indicativo perché il fatto che fosse venuto meno il comandante e che la sorte non fosse di aiuto alle truppe romane era un dato di fatto oggettivo e come tale Cesare intende proporlo l'ultima frase licet ipsa vizium sit ambizio frequenter tamen causa virtutum est se anche l'ambizione può essere considerata un vizio tuttavia spesso è motivo di azioni virtuose è motivo di virtù una persona ambiziosa che ha questo limite dell'ambizione tuttavia in conseguenza della propria ambizione farà delle imprese meritevoli di una valutazione positiva nel caso di licet noi ci troviamo di fronte a un particolarissimo tipo di parola che introduce la proposizione concessiva perché licet in realtà è un verbo un verbo che svolge quasi le funzioni di una congiunzione significa sebbene ma in realtà il significato originario della parola è è lecito dire che quindi sia pure vero che tuttavia e questo spiega anche il motivo del congiuntivo passiamo ora a un altro tipo di proposizioni le proposizioni temporali che però affronteremo con molta rapidità perché come abbiamo avuto modo di dire a proposito delle determinazioni di tempo anche per quanto riguarda le proposizioni le modalità con cui si parla del tempo sono numerosissime perché del tempo si può dire qualche cosa che riguarda il momento in cui una cosa avviene qualche cosa che riguarda il prima o dopo quel momento e altri tipi di rapporti se esattamente nel momento in cui all'interno di un'altra azione e così via vediamo alcuni esempi e vedremo anche qui un alternarsi di tempi di modi e di congiunzioni anche se un certo predominio dell'indicativo si potrà identificare guardiamo causam suscepisti antiquiorem memoria tua que causa ante mortua est quam tu natus est tu hai intrapreso una causa che risale a prima di quanto tu possa ricordare anzi diremmo in italiano una causa che è morta prima che tu fosse nata nato mortua est antequam tu natus es mortua est natus es si gioca naturalmente sull'opposizione fra i due termini indicativo secondo dum nos fatas sinunt oculos saziemur amore finché per tutto il tempo che ce lo consentono i fati saziamo i nostri occhi d'amore dum con l'indicativo presente per indicare l'intera durata del tempo mentre terza frase privatos deinde luctus stupefecit publicus pavor postquam o stessa adesse annunziatum est dopo che fu annunziato che i nemici erano arrivati è un caso parallelo a quel antequam che abbiamo trovato nel primo dei tre segni lì antequam era diviso ante mortua est quam qui il postquam invece è tutto unito in una sola parola vediamo l'ultimo esempio anexpectatis dum exercitur ursus ad moto ferro atque flamma urbem invadat ecco qui abbiamo il congiuntivo questo è l'unico fra i casi che abbiamo qui nell'esempio in cui la costruzione è fatta con il modo congiuntivo attendete forse fino al momento in cui essendo stato di nuovo portato qui l'esercito invada la città con il ferro e con le fiamme qui l'attesa il fatto che ci si rivolge comunque a un caso che deve ancora avvenire comporta questo congiuntivo voi volete forse indugiare perdere tempo finché succeda una cosa così grave io spero proprio di no e quindi il fatto che io spero di no e che c'è ancora la possibilità che questo rischio non si realizzi mi spinge a usare il modo congiuntivo ancora l'ultimo tipo di proposizioni circostanziali su cui ci soffermeremo è dato dalle comparative le comparative sono delle proposizioni che stabiliscono un rapporto per lo più di uguaglianza ma anche di altro tipo rispetto ad un'altra azione questa cosa è stata fatta così come è stata fatta quest'altra cosa questo è un caso tipico di comparazione all'interno della comparazione noi dobbiamo evidenziare essenzialmente due tipi di paragone uno che viene chiamato un paragone reale cioè un confronto che viene istituito nella consapevolezza che quel confronto regge a una sua concretezza tra due cose esistenti l'altro invece che è un paragone irreale come se questa cosa viene fatta come se ma il come se fa riferimento a una cosa impossibile vediamo ora la prima tipologia di esempi delle comparative cosiddette reali sic illum amicum vocasti comodo omnes candidatos bonus virus dicimus tu hai chiamato quello lì amico esattamente come noi chiamiamo tutti i candidati alle elezioni persone per bene è una frase in cui naturalmente si dice lo chiami amico ma che amicizia è così come signore persona rispettabile certamente non tutti i candidati lo sono quindi è l'uso generico e approssimativo di una frase sic vocasti comodo dicimus in questo caso tempo e modo della proposizione comparativa è identico a quello della reggente vocasti indicativo perfetto dicimus indicativo non nel caso di perfetto perché naturalmente c'è una differenza di tempo tu lo hai chiamato allora mentre in tutti i momenti noi chiamiamo boni viri i candidati seconda frase sicut vetus etas vidit quid ultimum in libertate esse itanos quid in servitude naturalmente qui si intende esset come l'età antica vide quale fosse l'ultimo possibile livello della libertà il massimo della libertà così noi abbiamo visto quale fosse il massimo della schiavitù ultima frase non tam preclarum mest scire latine quam turpe ne scire non è una cosa così meritevole di elogio sapere bene il latino quanto brutto il non saperlo nella frase che regge la comparativa avete l'infinito scire a questo punto anche la comparativa essendo una comparativa reale all'infinito nescire e vediamo infine l'altro tipo di comparative di cui dicevamo cioè quelle comparative di tipo ipotetico irreale nell'esempio che trovate nell'ultima schermata leggete come primo ille ut cartagine mdenit multo aliter ac sperarat rem publicam seabendem cognovit qui abbiamo ancora un caso diverso da quelli che dicevamo della ipotetica quelli come venne a cartagine si accorse che lo stato si trovava in condizioni molto diverse da quelle che aveva sperato sperata è ancora un indicativo invece i casi con il congiuntivo sono il secondo sic animi esse debetis ut siille ad esset voi dovete stare così di carattere di morale con il morale in quelle condizioni come se lui fosse presente non è presente lo sappiamo e quindi debetis indicativo presente ma ad esset congiuntivo perché si tratta di una comparazione impossibile e l'ultima frase mi ad pedes misera iacuit quasi ego eius excitare abimferis filium possem la poveretta si gettò dinanzi ai miei piedi come se io avessi avuto la possibilità di far tornare dall'aldilà suo figlio ovviamente una possibilità che io non avevo con questi due casi in cui trovate un congiuntivo imperfetto in entrambi i casi per indicare l'impossibilità che quella azione si realizzi entriamo in un ambito di ipotesi nell'ambito del periodo ipotetico che è un'altra delle costruzioni tipiche e più difficili della lingua latina che però tratteremo in una prossima lezione arrivederci